Buongiorno a tutti, oggi riprendiamo l'analisi di militari italiani, la storia di militari italiani che hanno in qualche modo dato un contributo molto molto importante alle vicende in pace, in guerra, delle nostre forze armate. Oggi parleremo del generale Giuseppe Tellera, ne parliamo per due motivi, uno perché è un generale a me molto caro, ho scritto anche una biografia su di lui e perché poi mi è stata richiesta da un utente che mi ha detto perché non fai un piccolo video su Tellera e quindi onoro anche questa richiesta. Partiamo subito da alcuni dati biografici. Tellera era del 1882, era di origine Mantovana, ma nacque a Bologna e da piccolo si trasferì a Modena dove iniziò tutto il suo ciclo di studio fino ad arrivare alla scuola militare di Modena che all'epoca era l'istituto di formazione dell'esercito che formava gli allievi ufficiali di fanteria e cavalleria. Che non va confusa all'epoca con l'accademia militare che era che invece preparava gli allievi ufficiali di artiglieria e del genio, le cosiddette armi dotte. C'è da dire che Tellera ebbe un'infanzia particolarmente travagliata, diciamo che tutta la sua vita fu una vita molto travagliata, fu orfano a sette anni, tra l'altro la madre che appunto era vedova, aveva avuto una certa serie di traversie perché era rimasta incinta a quattordici anni, la famiglia ovviamente non aveva accettato di buon grado questa situazione quindi vi fu un matrimonio riparatore con il padre appunto di Tellera che tra l'altro era medico condotto, che faceva il medico condotto, che avrebbe fatto il medico condotto che però appunto morì per una caduta da un mulo, quindi da questo punto di vista lasciava la moglie vedova con una serie di figli, mi sembra 5 o 6 figli, quindi da questo punto di vista mi fu anche una situazione abbastanza disagiata a livello economico, quindi il piccolo Giuseppe che sentiva un po' anche il peso di dover far fronte a un aiuto nei confronti della madre poi decise di intraprendere la carriera militare probabilmente anche per sgravare la famiglia da degli oneri legati all'istruzione e comunque potesse dare anche un conforto a livello economico diciamo che Tellera sin da giovane espresse una propria innata capacità, una propria innata predisposizione per lo studio, per l'approfondimento, questo fu particolarmente denotato appunto sia durante i corsi a Modena, sia successivamente una volta nominato ufficiale, ebbe modo, venne trasferito a Palermo in un reggimento e vi era uso all'epoca di una serie di conferenze da parte degli ufficiali per dare un senso anche di istruzione, di comunanza culturale con i propri uomini, e Tellera fu particolarmente prolifico, particolarmente accattivante nelle sue discorsi, nelle sue conferenze, Antecca arrivava anche a interessare la truppa, i suoi soldati con degli argomenti molto molto particolari, lui si interessò della storia militare della Mongolia delle conquiste mongole, diciamo, da Gengis Khan a seguire, quindi da questo punto di vista erano degli argomenti poco appetibili, ma lui riusciva a renderli molto molto interessanti e questa sua attitudine all'approfondimento che lo avrebbe poi portato alla scuola di guerra di Torino con la promozione, diciamo, l'abilitazione al servizio di Stato Maggiore che appunto lo avrebbe poi portato negli anni a seguire tutta una serie di incarichi principalmente legati al servizio di Stato Maggiore presso grandi unità e questo appunto gli aveva offerto di avere una serie di esperienze, di maturare capacità molto molto interessanti e tra l'altro nello stesso periodo proseguì anche la sua cura la sua interesse per l'approfondimento, aveva imparato la lingua tedesca, per conoscere bene tutti gli autori, tutti i maestri della storia militare, della cultura militare, della data a partire da von Clausewitz, ma tutta una serie, tutti quei riformatori che a partire dal Settecento in poi avevano dato un grosso lustro alla cultura militare in genere. Tra l'altro appunto quando si trovava a Palermo aveva avuto modo anche di imparare qualche rudimento di Arabo perché secondo lui era importante anche un'apertura molto più ampia verso tutto il bacino del Mediterraneo. Nonostante queste sue predisposizioni l'attività operativa non fu mai sempre molto attiva, non partecipò fino alla Prima Guerra Mondiale, non partecipò ad eventi belici, non partecipò alla guida di Libia nonostante appunto avesse questo suo interesse per il mondo arabo e la prima esperienza appunto fu quella della Prima Guerra Mondiale che lo vide in incarichi sia logistici sia di supporto di Stato Maggiore sul Carso e in tutta la zona appunto delle Alpi che riguardavano la fronte italiana, sia a livello anche operativo in Albania dove appunto presso a servizio anche con un'attitudine molto attenta alle necessità appunto logistiche che garantissero alle forze armali italiane tutto un supporto per la preparazione anche a te stessa della campagna militare. Poi tornò in Italia sul fronte orientale dopo appunto Caporetto partecipò alla battaglia del sostizio e quindi nel frattempo proseguì un po' la sua carriera, nel frattempo è diventato capitano e poi maggiore così da poter dopo la fine della guerra avere anche un'altra serie di esperienze che tra l'altro gli avevano fatto maturare anche un paio di decorazioni al valore militare. Gli avvenimenti passarono in maniera molto articolata perché a comandi, per esempio comandò da colonnello il settantottesimo reggimento toscana e poi una cosa molto interessante approdò allo Stato Maggiore proprio a Roma come collaboratore di Bonzani. Alberto Bonzani all'epoca appunto era il capo del Stato Maggiore dell'esercito alla fine degli anni 20 ed era il capo dell'ufficio operazioni. Quindi da questo punto di vista gli aveva dato modo anche di imparare, di apprendere delle nozioni anche legate a tutto il discorso della difesa dell'arco alpino. Successivamente divenne comandante delle scuole di Civitavecchia, scuole militari di Civitavecchia, da colonnello prima in forma interinale e poi promosso generale di brigata come comandante effettivo. Proseguì anche con comandi più operativi, fu comandante con il grado di generale di divisione, la divisione Isonso nella Venezia Giulia e poi arrivò il momento suo. Lui che aveva tutta questa predisposizione per un'apertura nel Mediterraneo fino alla fine del 37 venne mandato in Libia. In Libia come comandante prima della divisione autotrasportabile Sabatra e poi piano piano divenne uno dei più validi collaboratori di Italo Balbo. Tra l'altro bisogna dire che Tellera non era mai stato un fanatico, non era mai stato un seguace fanatico del fascismo, aveva avuto anche modo di criticare alcuni esponenti locali del fascismo, soprattutto nel periodo in cui si trovava al comando della divisione Isonso, quindi da questo punto di vista trovava in Balbo un elemento molto vicino a sé in cui esisteva sì l'attaccamento forte alla patria, alla possibilità di una guerra futura ma con un occhio molto critico, tant'è che appunto questa collaborazione che sarebbe arrivata fino alla morte di Balbo fu utilizzata allo stesso Balbo per cercare di convincere le autorità politiche e militari di Roma che forse era necessario uno sviluppo di difesa, uno sviluppo militare molto più articolato se in prospettiva vi fosse stata una guerra contro la Francia e o contro la Gran Bretagna, appunto per presidare i due confini, quello orientale con l'Egitto e quello occidentale con la Tunisia. Purtroppo sappiamo benissimo gli eventi come sono andati e da questo punto di vista si arrivò allo scoppio della guerra in una situazione abbastanza critica, tant'è che poi Balbo morì, un avvenimento curioso è che Tellera che in genere accompagnava lo stesso Balbo sullo stesso aereo per le sue osservazioni aeree, in quella circostanza prese Balbo stesso, dice prendi l'altro aereo, quindi anche forse per la stazza perché Tellera era molto grosso, quindi c'era una questione di peso e quindi fortunatamente per Tellera si salvò, il suo aereo venne anch'esso crivellato di colpi ma si salvò e riuscì a sopravvivere in quella circostanza. E la situazione poi proseguì in Africa con più ombre che luce arrivò Graziani, tra l'altro Graziani che era molto sospettoso nei confronti dell'era perché era forse troppo vicino, era stato forse troppo vicino a Balbo e soprattutto non aveva mai avuto modo di essere molto indiscendente nei confronti dei corridoi, delle lobby dello stato maggiore dell'esercito a Roma, di conseguenza si era inimicato anche il Sim e questo elemento aveva creato un certo pregiudizio da parte di Graziani, però a onore del vero Graziani si dovette ricredere perché comunque Tellera era un ottimo capo di stato maggiore del comando di Tripoli. La situazione come dicevo fu per alterne di vicende, l'offensiva di metà settembre dell'Italia si divenne una sorta di vittoria di Pirro, invece la controoffensiva del dicembre da parte degli inglesi fu un evento strabiliante, evento che permise a Tellera di avere un suo comando effettivo perché divenne, venne nominato comandante della decima armata all'età di 58 anni, da questo punto di vista per lui sembrava veramente un successone anche perché dopo l'esperienza col Balbo aveva ottenuto anche un certo credo dallo stesso Graziani. La situazione però purtroppo fu quella che conosciamo e ai primi di febbraio del 41, la notte tra il 6 e il 7, egli che era sempre in prima linea, era un elemento di grande impulso, aveva sempre avuto il desiderio per tutta la sua vita di essere vicino ai suoi uomini, aveva sempre dato competenze e capacità e esperienze per essere sempre vicino, comprendere l'umore dei soldati e anche in quella circostanza era all'interno di un carro che venne bersagliato dal fuoco nemico e quindi venne investito anche egli dal fuoco nemico e quindi dopo poco venne colpito ai polmoni e dopo poche ore morì. Questo evento che tra l'altro fu tributato anche con grossi onore dagli inglesi, che gli tributarono una sorta di, per quanto possibile, di funerali di onore militare, ha uno suo strascico molto in chiaroscuro, molto amaro perché nonostante gli fosse stata concessa la medaglia d'oro al valore militare da parte dell'Italia essenzialmente per giustificare, non che lui non fosse valoroso, anzi l'ava dimostrato la sua morte, ma il regime voleva dare in questo senso la giustificazione della morte così in battaglia di un comandante di armata e Mussolini pensò che questa cerimonia potesse, della consegna potesse essere utilizzata anche per scopi propagandistici, quindi offrì alla Veto e alla figlia che avevano, che erano destinate a ricevere questa medaglia, anche una sorta di soldi, hanno offerto dei soldi per fare una sorta di teatrino in maniera molto propagandistica, che però rifiutarono visto che l'onestà anche intellettuale della donna era profondamente al di sopra di queste beche, tra l'altro una famiglia anche un po' disgraziata, perché oltre a tutte queste vicende che vi ho detto, avevano due figli, uno appunto più grande e uno più piccolo, che tra l'altro era affetto da sindrome di Down, che aveva portato, sì, grossi problemi, ma anche un grandissimo affetto per questo bambino, poi ragazzo, che era nel cuore proprio dei genitori, anche e soprattutto per questa sindrome che aveva segnato molto, la vita di questo bambino e anche la vita dell'intera famiglia, quindi da questo punto di vista io mi sento di parteciparvi, questa cosa mi fa anche un po' emozionare, perché rappresenta l'onore militare, ma non solo, anche la dignità di un uomo, della propria famiglia, di fronte a tante sciagure, a tante criticità, sempre legate a un'idea molto più alto di patriottismo, anche al di là del quotidiano, delle tronfie retoriche che potevano essere state dal regime, quindi si dimostra veramente Giuseppe Tellera come un grandissimo uomo, un grandissimo soldato e un grandissimo comandante, che va sempre, va sempre ricordato, quindi oltre al fatto che appunto ha ricevuto la massima onoreficenza al valore militare. Con questo io vi saluto, vi ringrazio ancora per l'attenzione, per la fedeltà che offrite ai miei video, vi invito a mettere mi piace, iscrivetevi al canale e alla prossima, ciao!